ben trovati cari amici di live social qui il vostro speaker marco allegri e siamo su radio news 24 salutiamo quindi dal lazio il nostro michele bianchini salve bentrovato salve buongiorno a voi michele ci vuole raccontare un po appunto come è nata la passione per l'architettura e da quanto lo fa allora diciamo che ho sempre ispirato a fare l'architetto fin da quando facevo il liceo diversi anni o sono mi sono laureato nel 2011 abilitato l'anno successivo quindi ormai sono otto anni che faccio la libera professione di architetto specialmente faccio le nuove costruzioni ovviamente il design ha accoppiato la ristrutturazione degli immobili in genere vorrei che ci spiegasse quando si parla di bio edilizia e bioclimatica di cosa si tratta sì allora diciamo che la la nuova era della dell'edilizia sarà molto probabilmente sicuramente incentrata su questi due nuove tematiche cioè l'abbia edilizia cioè l'uso di materiali innovativi come possono essere appunto delle nuove tramettature delle nuove fannellature fatte con materiali naturali come per esempio il legno il vetro o anche altro tipo di materiale comunque derivato sempre dalla natura mentre la diciamo la bioclimatica è lo sfruttamento delle risorse naturali come può essere appunto il sole o l'energia geotermica per il riscaldamento e raffreddamento degli ambienti entrambi i campi hanno dei incentivi governativi ormai sono sul campo da diversi anni per esempio la bio edilizia quindi l'uso di questi nuovi sistemi e queste nuove fannellature questi nuovi materiali ha degli incentivi del 50 per cento per esempio sul sul prezzo di costruzione fino ad un massimo di 96 95 mila euro all'incirca di spesa complessiva ma per i nostri ascoltatori che volessero approfondire l'argomento e magari appunto chiederle qualche consiglio le va di lasciare un contatto facebook un sito web una pagina instagram per far vedere i suoi lavori e perché no appunto farsi chiedere appunto delle informazioni in più sì certo io praticamente ho una pagina facebook che è la pagina direttamente dello studio che è archi in project e ho una pagina instagram anche questa nominata con lo studio con archi in underscore project tranquillamente insomma perfetto perfetto quindi invito i nostri ascoltatori a cercare le varie pagine cliccare il mi piace seguire ripostare condividere e quindi perché no chiedere qualche informazione in più io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro quindi un buon lavoro ma arrivederci grazie a voi buon lavoro anche a voi rivederci per le prossime novità dei nostri ospiti restate qui con noi su live social live social